Un appello al Consiglio regionale della Sardegna per la tutela dei lavoratori di Tiscali, lo ha lanciato la Wilcom per sottolineare come il futuro di 650 famiglie sia in pericolo dopo l'accordo commerciale con cui a fine luglio Tiscali ha ceduto a FastWeb la piena proprietà dello spettro in banda 3,5 GHz e con cui l'azienda svizzera si assicurerà un accesso a lungo termine allo spettro per il 5G che rappresenta il futuro prossimo delle comunicazioni. Il segretario generale della Wilcom Sardegna Tonino Ortega ha scritto stamattina al Presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale Piero Comandini chiedendo la convocazione urgente dei soggetti interessati, Tiscali, FastWeb e le organizzazioni sindacali, questo affinché finalmente le istituzioni sarde diano il corretto contributo alla soluzione di questa avvertenza. In questi giorni è nato l'asta per l'assegnazione dello spettro di banda restante per le frequenze del 5G a cui stanno partecipando i restanti operatori dell'Etelco e come lei avrà visto il valore degli spettri di banda in questione stanno avendo un valore ben più elevato rispetto all'accordo commerciale del 31 luglio scorso di 150 milioni di euro, scrive Ortega. Il segretario della Wilcom ripercorre le tappe dell'operazione che rischia di essere devastante per il futuro delle 650 famiglie sarde di Tiscali, soprattutto alla luce della mancanza di un piano industriale che delinei la strategia di Tiscali per il futuro. Per questi motivi, conclude Ortega, penso che la Regione non debba continuare a stare alla fenestra ma debba essere attore principale a fianco delle organizzazioni sindacali e di tutti i lavoratori di Tiscali.